Salve, sono il professor Torda e vengo dal ITIS Pacinotti Archimede di Roma. Io sono un veterano di questa competizione, l'ho fatta dalla primissima volta e da allora ho sempre portato i miei alunni a partecipare. È un evento particolare che li motiva molto, lavorano tutto l'anno per arrivare a costruire un robot con varie tipologie e è un'operazione che coinvolge tutta la scuola, almeno tutta la parte del tecnico, soprattutto di elettronica. Quest'anno dovrei avere qua, ho perso il conto esattamente, ma circa 30 team diverse. Tutti i ragazzi del corso di elettronica, molti di informatica, qualcuno del liceo. L'obiettivo è stare qua e imparare, quello per me è l'importante. Loro sono motivati, hanno una gara da fare, però per prepararsi studiano e imparano cose nuove. Quindi si unisce la parte del gioco, la parte della competizione con la parte formativa, che per una scuola è l'obiettivo principale. Adesso siamo qua, siamo in tutte le finali, speriamo di arrivare primi da qualche parte, ma ci conto. E anche dovessimo arrivare ultimi, comunque bravi ragazzi perché hanno lavorato tutto l'anno.